In Lockten Revolution Summit abbiamo con noi Giorgio Scura di TheCrypto.org, una rivista specializzata nell'individuare le truffe sulle cripto. Giorgio, quali sono le cripto truffe più clamorose che avete scovato? Ultimamente abbiamo avuto due su tutte, Hyper e tutti i figli e i figli astri, Hyperverse, HyperSense, HyperNation e bla 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 e UEFA Football Found. Noi come TheCrypto le abbiamo seguite entrambe, soprattutto su UEFA abbiamo capito le dimensioni di queste truffe che per quanto si poteva capire anche da subito che chiamandosi UEFA e raccogliendo soldi senza teorizzazione difficilmente poteva essere la famosa associazione di calcio, nonostante questo ha raccolto oltre 50.000 clienti poi ovviamente truffati, una raccolta di centinaia di milioni di euro. E i soldi di queste scam cripto dove sono finiti? Siete riusciti a tracciarli? Noi come TheCrypto facciamo anche tutto il tracciamento di questi fondi analizzando la blockchain e abbiamo visto che i soldi dei truffati di UEFA sono finiti, ben 274 milioni di euro, sono finiti in account FTX, che come sapete è il famoso exchange che ha dichiarato bancarotta, quindi sostanzialmente si sono truffati da soli. FTX ha truffato i truffatori di UEFA Football Found. E lo scam Hyper, quante persone ha truffato, quanti soldi ha fatturato, ma soprattutto come è riuscito a trovarne così tanti? Per quanto riguarda Hyper è un'epopea, diciamo, è la madre di tutte le cripto truffe, ormai è in giro da 8-9 anni, noi abbiamo calcolato oltre 2 milioni di clienti barra truffati in giro per il mondo, primo mercato Stati Uniti, secondo mercato Italia, dove reti senza scrupoli di venditori molto aggressivi hanno tirato dentro centinaia di migliaia di persone tramite l'affiliation, che porta ovviamente a una pericolosità ulteriore di queste truffe perché il promotore di queste truffe probabilmente è un tuo amico, un tuo parente, un tuo cugino, di cui tu ovviamente ti figli. Quindi la crescita a macchia d'olio di queste truffe che portano poi i capoccia in cima alle reti nazionali a raccogliere fino a 250 mila euro al giorno solamente dal referral della propria rete perché giustamente loro non mettono soldi nei ponzi perché poi sanno come va a finire.